Dio è l'intelligenza suprema da cui scaturisce tutta la crescita. Noi lo chiamiamo Santo Spirito e Lui è il Dio di tutti, è il Dio dei terrestri, dei venusiani, dei marziani, di quelli di Alfa Centauri, gli angoli più remoti del cosmo, Dio è sempre quello, lo Spirito Santo. Ma è una figura o un'energia secondo te? È un'intelligenza incommensurabilmente avanzata che è presente anche in me e in te. Ma tipo un computer? No, uno spirito, uno spirito. Sono un'intelligenza, io sono un'intelligenza, tu sei un'intelligenza. Se io tolgo il mio spirito da questo corpo e lo metto nel corpo di un cinese, sono sempre io. Se lo metto nel corpo di un nero, sono sempre io. Quindi l'essere luce non ha forma, ma si adatta a qualsiasi forma che possa esistere nel creato. Chiaro? Quindi il Santo Spirito è l'intelligenza, forza, energia e la forza dei guerre stellari che sta dappertutto. Quindi il Santo Spirito è l'intelligenza, forza, da cui è scaturita tutta la creazione. Quindi gli dèi, che sono monarchi solari, sono miliardi. Ogni sistema solare ha un monarca. Il nostro monarca si chiama Adonai, che è il padre di Cristo. Il monarca della stella maia delle Pleiade si chiama Arat Ra.